Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati! Oggi troviamo un nuovo gioco, War Snipper, un gioco nuovo uscito il 15 febbraio, se non sbaglio, del 2024, quindi non ha neanche un mese. È un gioco di guerra! Per il momento siamo ancora all'inizio, abbiamo appena finito il tutorial, dobbiamo attaccare il boss. Boss l'è localizzato, ora può affrontare un altro boss eliminando e otteniamo la nostra ricompensa. Ok, quindi andiamo ad affrontare il generale Stell. Siamo arrivati a questo punto e c'è ancora un parziale tutorial al gioco, quindi per giocare ci servono 2 di energia. Noi dobbiamo praticamente puntare il bersaglio con il nostro carro armato e farlo esplodere. Quindi proteggi unità di forze speciali. Ok, questa mi è nuova. Proteggi unità di forze speciali. Quindi non capisco se dovrei attaccare questo. No, missione fallita. Ho ucciso il mio alleato. Ok, quindi no. Riproviamo ragazzi. Dobbiamo capire che quindi dovrei forse uccidere quello nel carro armato. Proviamo. Colpo alla corazza. Andiamo a colpire di qua. Vediamo dove c'è. Indicato rosso. Dovrebbe esplodere. Sì. Quello è il serbatoggio ragazzi. Ok, ma c'è ancora da colpire qua. Fuori un altro. Attenzione c'è ancora altro qua. Ottimo questo colpo. A velocità riesco a prenderlo. Conclusa la missione ragazzi. Molto bello sto gioco. Di intrattenimento. Un buon passatempo ragazzi. Quindi andiamo avanti. Giustizia per tutti. Si va avanti. Giustizia per tutti. Quindi. Vediamo cosa succede se clicco qua. 404 lingotti d'oro. Quindi possiamo anche potenziarlo il nostro fucile volendo. Ma aspettiamo per fare i potenziamenti. L'arma non è abbastanza potente. 74 di danno. Serve. 225 mm di distanza. Metri di distanza. 4,7 secondi tempo di ricarica. Quindi andiamo a potenziare un po'. Quella consigliata e le munizioni. Perfetto. Potrei giocare ora. Ok. Quindi andiamo avanti ragazzi. Uccidi l'uomo che indossa gli occhiali. Vi consiglio di scaricarlo questo gioco. Ma non capisco perché non mi spara. Completamente sbagliato il bersaglio. Ah ok. Ok 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 ok. Quindi andiamo a riprovare. Riproviamo ragazzi. Forse ho capito. L'uomo che indossa gli occhiali. Uccidi l'uomo che indossa gli occhiali. Quindi. Non nell'elicottero no. L'uomo che indossa gli occhiali. Non è possibile ragazzi. Forse è quello? Sì. Forse l'abbiamo trovato ragazzi. Preso. Perfetto ragazzi. Lascia ora doppia. Comunque ragazzi. Il gioco non finisce qua. Andiamo a vedere cosa c'è altro. Beh a parte il negozio. Che lo andremo a vedere in un altro momento. Si può fare anche. Lo scontro finale.